Occhio Jack, di solito portano i prigionieri importanti al bunker dall'altra parte dell'isola Dall'altra parte? Beh, grazie per avermi lasciato qui, mi servivo un po' di ginnastica Hanno un centro radar che ci avrebbe individuato, farai prima tagliando attraverso le strutture di ricerca Che tipo di ricerca? Non posso parlarne ora, fai attenzione a tutto quello che si muove e se qualcosa ti sembra pericoloso, beh, dov'è Ecco ti State in guardia Con la camicia Grazie 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 cos'è stato prendetelo occupato chiamerò gli altri codice rosso codice rosso troppo a cercare aiuto ah chi faccio nero ne vuoi un po' muori muori dove è andato non è peggio di quello che succede qui fate con quello che avete arraggiatevi qualunque cosa fosse spero fosse l'unico dove sei? ho difficoltà a localizzare il tuo segnale e come faccio a saperlo? sono in una specie di grotta ah si la stazione di pompaggio dannazione non abbiamo più luce mi ci voleva proprio cerca l'ascensore dovrebbe portarti alla struttura di ricerca bene credo di aver sentito qualcosa ehi lo vedi? addico quel regolatore adesso non abbiamo tempo si sta scatenando l'inferno lo so lo sprendete tutto bene oh 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 Ora ti prendo Maledi, cosa è successo? Questo posto è il caos totale. Sì, ci ha riflettuto. Credo che distruggendo il centro comunicazioni tu abbia portato lo sconfiglio in tutte le isole. I Trigen devono aver colto l'occasione per fuggire.